Amici miei, bentornati in un nuovo episodio nell'Iro Colosseum Capsule opening triplo con i ragazzuoli e con chi sanno? Joseph e Blazzi, ciao ragazzi Ok, let's go Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati Tutti Meno che Joseph, vai Ecco qua, mi sembrava strano che desse il bentornato a tutti, compreso Joseph Ragazzuoli, prima di cominciare questo episodio Lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video Perché oggi faremo qualcosa di diverso Vincerà l'episodio colui che troverà più R e non più le UR Come vi sembra? Più R Più R Va bene Quindi Andrè Io ho un problema gravissimo E lo sapevamo No, 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 io intendo Io prima, nel video che abbiamo registrato per me, ho fatto una capsula in più Quindi io mi sono tolto Non importa Non importa Io e Blazzi partiremo con una capsula di vantaggio Così impari ad essere No, così impari Ci sto, ci sto, ci sto Blazzi, 3, 2, 1, via E andremo ad esultare per le R Per assurdo Non esulta Anzi, scusatemi La UR toglie un punto La R dà il punto Così almeno vi faccio imparare ad essere fortunati Maledetti Ok Vabbè Va bene Vabbè, ci sto, ci sto, ci sto Io al momento sto trovando tutto SR E fin qui mi sta quasi bene E godo E godi? Va bene R, prima R, Machin Bu Perfetto Buono per Blazzi Ok Dovremmo essere tutti a 25 Confermi? Sì Ok Allora dico 3 Dico 2 Dico 1 Let's go Via Ok, let's go Abbiamo ricordato di lasciare like Di hashtag Saiyan e tutto il resto Sì, no, gli hashtag evitiamoli ragazzi Perché non portano benissimo Porca macca Top odio della distruzione R Ok, un punto Per te io ho trovato una UR nuova Quindi rimango a 0 Vegeta Vegeta R Number 2 Kappa R Slug R E vado a un punto E Goku R Vado a 3 Black Goku E vado a 2 No, ma come fai a fare così, bro? È troppo È troppo che? È troppo Cioè arriviamo per la fine dell'episodio a 50 punti Ma non è vero Guarda che non è facile Secondo me no Eh, non è facilissimo trovare le R Vai, conta Giuseppe E dico 1 2 3 Via Vai In qualche modo devo dissociarmi da questo conteggio No Perché qualcuno avrà pensato male Questo è Tarles Vado a 4 3 Great Saiyan Mamma mia, ragazzi Che siete, oh 4 Tapione Ma che è, oh Eh Ma io non le sto trovando tutte le R Che trovate voi Scusatemi È voluta la bicicletta E ora vedate 5 17 Sì, ma ricordatevi Ricordatevi che la UR vi toglie un punto Cioè non fate che non lo dite Vabbè, tanto non troverò nessun UR qua Ah, sta a posto Vabbè 3-2 fa 1 Via Anche se, oddio D'altra parte Se trovo una UR nuova Io godo, eh Eh, lo so Ma allo stesso tempo Non godi Perché ti tolgo un punto Sei Darbula Ma perché? Ma com'è possibile? Eh, regà Che vedevo di... Ma le UR ci stanno Bronce Ma hai fatto attenzione Che sono tante comunque Oh, regà Io continuo a trovare SR Cioè Cell Junior R va da 5 Mi sa Credo Non so Vabbè, tanto il conteggio Lo trovate a schermo, boys Niente, regà Sono una fabbrica di SR Conta, Blazzi E dico 3 E dico 2 E dico 1 Let's go E dico 0 Il valore di Joseph via Esattamente Ma perché? Ma che centro io nel mio video Ho fatto questo con te? Cioè, ma io non lo so Deve partire da qualcuno Ma, regà L'hai sentito? Sei sentito in colpa Che il UR nuova Tolgo un punto Ma subito dopo Trovo Darbula E mi aggiungo un punto No, ma Sette Sette Stavo a prima forma Stavo a 7 A 6 prima Qualcosa non va Mirko Tu qua 8 Devi toglierti 3 punti 8 Goku 8 Goku Non fare bordello Giuseppe Mannaggia te Ah, perché non mi sai Fai conteggiare i miei punti E dico 3 E dico 2 E dico 2 E dico 2 Via Vabbè Tra l'altro Questa challenge Avevo intenzione di portarla Tanto tempo fa Però poi persi un po' La memoria E non la fichi più Super Saiyan Blue Vegeta No, è voluto Pan R Grazie Ma Me la ricordarono Dei ragazzi Alla Games Week Questa 5 Cabba R Capito? Gohan R Vado a 6 Io non so quanto sono Nooo Caulifla Super Saiyan 2 UR nuova Ma scusa Ma sto Oh regà Se sto episodio Lo avessi fatto In modalità standard Vi avrei aperto In due Io no Io no invece Stare proprio perdendo Stra perdendo io Bellissimo Vabbè UR garantita Che dobbiamo fare UR garantita UR garantita Dai Apritela Se troviamo una nuova No no apritela Se hai trovato una nuova Mi tolgo un punto Esatto Tutte le altre no Io sono La prima volta Che desideriamo Di non trovare UB Ma UB UB Vabbè Safe Super safe Super safe Ok Dico 4 Ma come cazzo è possibile Fu Nuovo UR In questa Cazzo di Capsula garantita Ditemi voi Com'è possibile Fantastico Giuseppe Non punto Continua così bro Che secondo me Andrà lontano Seguitelo È un grande esempio Andiamo Prossima capsula Grazie Ma Vado Parto Certo Certo Ok Ma un altro episodio Che stravincerò Questo ragazzi miei Ma quale episodio È stravinto Finemogian Infatti UR 9 Goten UR 9 è arrivato UR UR Sì Sì ma mi divertimo 10 Kid Buu Eeeh Tombola Vegetabagin Non so quanti punti sono Ho perso il conto Perdonatemi Però lo vedete a schermo Giafraga ha detto Kid Buu Pensavo Se Kid Eeeh Mi risuaggio ovviamente Signori di Youtube Conta Joseph Oggi Joseph È particolarmente Emozionato E dico 3 2 1 Via Vai Avete sentito Con che calore Lo dice Dai 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 R R Niente UR E vai 11 Ripriegne Facco 2 Non è possibile Regà Un'altra UR Raga Un'altra UR Nuova Un'altra UR Occhio che lo recuperiamo Gianfraga Ma io ho fatto jackpot A sto episodio 8 8 Sto 8 Credo Buono Buono Ma che cazzarola Raga L'emisodio al contrario Sì Sì Ma io non capisco Che cazzarola 3-2 Fa 1 Via Via Ma veramente Ma è stupendo Però Nel fatto di non trovare 12 Dai Gianfra Dai Gianfra Basta bro Gianfra Ti sto recuperando Che ti Ma che recupera Darbula Darbula R 10 10 10 10 Poi Ma che recuperi Bo Oh la SR Fa sempre schifo Sta poco da fare In qualunque episodio Al contrario No Se facessi la SR Probabilmente Sarei a editare 15 giorni Sto video No 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 3 multirimanenti Ragazzi Nemmeno una UR Questa Quest'episodio Porco 2 Regà Ho dovevo proprio A zeccare l'episodio Dove Blazi Sfigato Oh sono partito Per sbaglio Sono partito Andate 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 Cioè Dovevo beccare All'episodio Per sta challenge Dove io Sono scuradissimo Un'altra Caulifla UR Nuova Ma quanti punti Perdo Toppo Toppo 13 Ma quello Non perde un punto 12 Ma come Ma dai Raga Ma che è Sì 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 Sovito Lo cancello Ma che sia Ma in basso No 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 Te lo tieni Ragazzi Io devo fare Un conteggio Di UR E avrò fatto Tipo 20 punti Cioè Sto episodio Facevo il record Raga Fullia Allora Se avessimo fatto L'episodio standard Con me Potevi pure Non metterti A conta proprio Tanto Eh Editavo di meno Eh Capito 3-2 Fa 1 Via Via Si è capitato male Gianfranco Che volevo vivere Un po' di emozioni Che disastro Anna Gianbo deve essere R Giren Sì incredibile Ma vero Perché Oh Ok 14 13 Quanta 14 Gianfranco Mariché Un vecchio amico 15 Trunks GT Raga Un'altra UR Nuova Ho trovato 16 Ribien Ma veramente Bro Ho trovato tutte UR nuove Te lo giuro Vado a 13 No raga Non cazzo Cioè non faccio in tempo A trovare un R Che subito dopo Un è UR nuova Raga Ma dai Ma è follia Questa Mirko 16 Stai contando a Gianfranco Sì vabbè Gianfranco è andato Raga È andato Non è detto Quest'ultima posso recuperarla Vai 3-2 fa 1 Andate Ma raga Io L'episodio più divertente Di sempre Per me questo Gianfranco vince Senza trovare UR Capito Solo così poteva vincere Hai capito tu Qual è il discorso 14 Attenzione 14 Freezer dorato Cioè ma quindi Voi avete fatto Soltanto L'upgrade Perché non avete mai 15 15 Oh Giren Massima potenza Un massima potenza UR Perde tutti i punti La madò Le UR Meno male che l'ho trovato poco fa 3-2 fa 1 Via Via Meno male che l'ho trovato poco fa finalmente Io sto a 15 Gianfranco sta a 16 Ma Mira Salvo Full power Salvo No Mira super cattivo Salvo Mirko Ha vinto Gianfranco Eh ha vinto Gianfranco Sì Aspetta perché Allora Le UR Quanto toglievano le UR? Uno? Uno E le nuove Pure tu Sempre uno Sempre uno Sì sì Ho vinto io Ho fatto da 16 a 15 E poi subito dopo Giren Full Power Ho riuscito Kid Bu Io sono rimasto a 15 Per un punto Mirko Eh ragazzi Io non lo so di preciso A quanto sono Ma sicuramente Io sono quello che ha perso Perché sono quello che ha trovato Più R di tutti Cioè Raga Magari se avete fatto il conto Nei commenti Scrivetemi il numero di punti Che ho totalizzato in questo episodio Perché durante l'editing Io dovrò contare le R E per me Sta roba è totalmente folle E non ringrazio i ragazzi Che me l'hanno ricordato Alla Games Week Che poi alla fine Gianfranco Giren UR No Non è stato bellissimo Il contrasto di emozione Ha fatto Giren UR Oh no Va bene Boys Io spero Che questa challenge Vi sia piaciuta Ovviamente Qualora vi sia Realmente piaciuta Ne porteremo altre Anche a tema Così magari ci inventiamo Qualcos'altro Ma per questo episodio È veramente tutto Ovviamente i canali dei ragazzuoli Li conoscete benissimo Li trovate a schermo Do cazzo non lo vi pare Ci vediamo con i prossimi video E ancora una volta Pulitemi il trono Mi raccomando No Pulite bene Brutto messaggio Mamma mia Ciao 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 Grazie per la visione!